dei loro principi che in nessun modo vogliono imporre ad altri chiediamo lo stesso rispetto che riconosciamo a chi lavora non ci piegheranno con le campagne stampa veramente contro di noi e contro i pontuali e siamo qui a dirlo nettamente la nostra forza è la forza di lavoro non siamo numeri non siamo codici non siamo matricole no green pass no green pass sei tu l'epidemia sei tu l'epidemia sei tu l'epidemia guardi vai via sei tu l'epidemia guardi vai via un impasto unico che sono tutti amori oggi che si affianca in questa battaglia e hanno valutato anche loro manifestazioni grazie a tutti